Avete più sentito parlare di eutanasia, fecondazione assistita, coppie di fatto, aborto, RU486, libertà civili? Non se ne parla più in Italia. Prima c'erano tutti, vescovi, preti, politici, scatenati per dirvi quali sono i valori da imporre a ciascuno di noi. Adesso, siccome bisogna stare tutti uniti sulle questioni dell'economia, dello spread e questi temi non aiutano, allora sono cancellati, rimossi, mentre nel resto d'Europa si governa con delle regole, delle unioni civili, del testamento biologico, delle materie che riguardano quello che c'è di più importante, la nostra vita, la nostra nascita, la nostra morte, in Italia il problema è rimosso. L'associazione Luca Coscioni si batte ogni giorno per riportare dalle vicende individuali, dal corpo innanzitutto nostro, delle persone malate e disabili in particolare, al cuore della politica, dell'agenda politica, quelle questioni. È quello che cerchiamo di fare e spero con il vostro sostegno.